Noi come associazione di categoria, stando quotidianamente a fianco delle aziende del nostro territorio, conosciamo una difficoltà di accesso al credito ormai consolidata e purtroppo cronica, una difficoltà nelle nostre aziende di utilizzare probabilmente per proprie colpe tutti quelli che sono i nuovi servizi bancari, una difficoltà in generale che incontro ad affrontare i mercati per mancanza di liquidità. Il Confcommercio con questa presenza vuole sempre più rafforzare il rapporto dell'associazione con il mondo delle imprese che in Fiera di Levante sono presenti quest'anno in modo abbastanza marcato e diffuso nei vari settori merceologici. Io mi occupo di Confidi da tanti anni ma ancora oggi il ruolo del Confidi nel rapporto banca-impresa è estremamente importante. Considerate che nonostante le grandi disponibilità di liquidità sul sistema, le aziende hanno difficoltà di accesso al credito e queste difficoltà possono essere soltanto smussate se c'è un'attività consulenziale forte da parte di un soggetto che non solo rilascia garanzie ma suggerisce anche i percorsi per poter accedere al credito con maggiore facilità. Il nostro è uno strumento importante che opera su tutto il territorio regionale, chiaramente con un indirizzo particolare e forte per quanto riguarda la provincia di Bari e BAT. I dati sono emblematici di una realtà diversa sul territorio che contraddistingue sia la provincia di Bari che quella di BAT. Va detto che in questa indagine che abbiamo individuato si vede il grande lavoro sul territorio che fanno le associazioni categorie, in particolare con Commercio e il Consorzio di Garanzia. Perché oggi possiamo dire che nonostante la grande crisi e le difficoltà le banche in media danno credito alle imprese del terziario. Naturalmente danno più credito alle imprese che sono operative da almeno 5 anni, danno più credito nella provincia di BAT, mentre in quella di Bari c'è una percentuale di accoglienza delle richieste inferiore. E che cosa chiedono le imprese? Le imprese chiedono fondamentalmente tre cose alla banca. Una maggiore trasparenza nei meccanismi di valutazione del merito di credito e anche una maggiore competitività nei costi di gestione. Poi naturalmente le imprese chiedono rapidità nel dare risposta alle richieste. Quindi trasparenza, rapidità e competitività. Queste sono le tre cose che chiedono alle banche. Cosa si può fare per andare incontro alle imprese? La ricerca evidenzia chiaramente la richiesta delle imprese alla banca che dovrebbe dare un finanziamento all'impresa almeno per una montare, se non uguale, almeno inferiore alle richieste. Poi dovrebbe dare più fiducia all'impresa e attivare una capacità di conoscenza e di accompagnamento dell'impresa che oggi non esiste. Soprattutto per le imprese giovani, per le imprese create da poco, per le start-up che non hanno quindi una storia oppure in altri casi un patrimonio alle spalle. Che cosa facciamo con questo progetto? Perché qui secondo me è un elemento importante. Il progetto Hobbit, che nasce appunto dalla collaborazione tra Banca Puglia, Veneto Banca e Confcommercio Baribat vuole non solo indagare le ragioni e le criticità di un rapporto banca-impresa del terziario oggi sempre più cruciale per lo sviluppo, ma anche fare delle attività. Cioè la fase 2 di questo progetto sarà, assieme ai partner del progetto, attuare dei tavoli sul territorio per dare risposta concreta alle esigenze dell'impresa. È questo un obiettivo che ha sicuramente la banca ed è anche un obiettivo ovviamente che ha l'associazione Confcommercio. Confcommercio